Un gesto che va al di là del mero aspetto economico, proiettato a sensibilizzare anche altri cittadini a sostenere chi di un aiuto necessita davvero. Questo è quanto portato avanti con impegno dall'assessore all'operatività di Pesaro Enzo Belloni, che con la vendita di circa 160 cappellini invernali con il suo logo operativi, ha sposato la causa della nuova casa famiglia, la perla preziosa, donando quanto ricavato. 935 euro raccolti in meno di un giorno per sostenere una piccola parte delle spese per il lavoro di ristrutturazione della nuova abitazione, scelta da Nicolette Francesco per portare avanti il loro progetto di accoglienza. Avevo fatto fare un po' di cappellini da regalare per Natale, invece di regalarli, io penso che un po' in tanti possiamo... La casa si fa con tanti mattoni, non si fa con un mattone solo, quindi in tanti hanno deciso di regalare un mattoncino per dare un contributo, per far sì che il progetto di questi ragazzi vedesse la luce. Oltre a raccogliere i fondi, poi io penso che questa operazione ci sia servita in qualche modo da casa di risonanza e quindi sono contento di quello che abbiamo fatto. La perla preziosa si trova attualmente nella vecchia canonica di Monte Santa Maria, ma non è più adeguata per la famiglia formata da Nicolette Francesco, che assieme ai loro quattro figli naturali ne hanno tre in affido. Uno è diventato maggiorenne, mentre l'ultimo è arrivato a sei anni ed è tetraplegico. Da qui è nata l'esigenza di trasferirsi in una casa più grande, che gli potesse consentire di rispondere alle necessità dei ragazzi. Necessità che corrispondono anche con i continui spostamenti verso Pesaro, centro di numerose attività quotidiane dell'intera famiglia. E proprio per questo motivo è stata individuata una casa disabitata a Candelara, che apparteneva alle suore del piosto d'Alizio. La tematica è stata presa subito a cuore da alcune associazioni del territorio, che hanno deciso di dare il loro contributo, sostenendo i lavori di ristrutturazione dell'edificio. Contributo che però tutto ad un tratto non è più bastato, a causa dell'innanzamento dei costi e dei materiali edili. Manca questa fetta di 40-45 mila euro per terminare i lavori, e però grazie all'assessore a tutte queste iniziative che sono nate, che mila euro ne sono state raccolte, quindi dai, veramente noi possiamo solo che ringraziare tutto il buon cuore della gente che ci sostiene. Speriamo, insomma, che entro primavera la ditta dovrebbe terminare i lavori e se riusciamo a raccogliere con tanti mattoncini, tante cose, quello che manca, ecco, riusciamo a terminare il progetto e poi trasferirci durante l'estate. Dove viviamo adesso, insomma, la casa inizia ad essere stretta e le barriere architettoniche, insomma, non facilitano la, insomma, vivere dentro casa e quindi siamo anche molto isolati, per cui questo progetto è nato da un po' di anni di riflessione, l'esigenza di trasferirci un po' verso Pesaro, che è il posto dove i ragazzi usufruiscono dei servizi, ecco. Permette a noi sia di, ecco, avere spazi più vivibili per i nostri figli sia di poter accogliere anche persone in più che hanno bisogno, perché la casa ha più posti, ha 12 posti letto, adesso dove siamo adesso ne ha 9 un po' stretti, diciamo, e quindi noi siamo contenti di poter continuare il nostro progetto di vita, ecco, grazie all'aiuto di tanta gente, ecco.